In occasione della giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, leader dello sport e del facility management hanno ancora scelto di giocare insieme per vedere chi se la cava meglio cambiando campo. Scherzi a parte, parlare di sicurezza è molto importante, e non solo nei luoghi di lavoro, ma anche a casa, per strada e a scuola. Manital e Auxilio Incustorino hanno deciso di affrontare l'argomento in modo nuovo, aderendo alla campagna Italia Loves Sicurezza. Italia La Sicurezza è un road show che farà sì che il 28 di aprile, che è la giornata sulla salute e sulla sicurezza, una serie di città faranno delle campagne per promuovere la cultura sulla sicurezza. Manital ha deciso di aderire affinché la cultura della sicurezza sia una cultura che esca solo dal mondo del lavoro, ed è per questo che ha colto anche l'opportunità dello sport, in modo tale che si possa affrontare con percorsi di comunicazione che siano diversi, e che possano fare davvero cultura su tutti noi. L'applicazione di sicurezza è un argomento importante, però che noia! E invece no, la sicurezza è un aspetto importante e il messaggio che vogliamo lanciare è proprio legato al fatto che la sicurezza deve essere alla portata di tutti, perché la sicurezza è amore per quello che si fa, è passione in particolar modo, è consapevolezza. Come nello sport, in uno di noi si nasconde un leader della sicurezza, per cui è un concetto importante che noi possiamo sviluppare e portare avanti, essendo ambasciatori della sicurezza non solo nell'ambito lavorativo, ma in tutti gli ambiti che riguardano la nostra vita più personale, quindi per noi stessi e per chi ci sta di fianco. La sicurezza è di tutti!